Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove per una manifestazione sono possibili disagi in uscita a Valdichiana provenendo da entrambe le direzioni. In A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Genova e in uscita provenendo da Genova. Il traffico per il momento scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni domani notte in orario 21.6 in A1 panoramica sarà chiuso il tratto tra il bivio con la variante di Valico-Baccheraia e il Rioveggio in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!